Allora, Luca Fioretti, direttore sportivo della Sestrese, è arrivato questo 2-2, riacciuffato proprio all'ultimo secondo, insomma, un punto guadagnato? Abbiamo due punti persi, se vogliamo andare in playoff partite come queste dobbiamo vincerle nel primo tempo e non vincerle solo nel secondo tempo, nel primo tempo ha giocato solo una squadra che ha meritato di essere in vantaggio, di due gol, noi abbiamo avuto soltanto un'occasione pericolosa su punizione e nel secondo tempo il mister ha giustamente fatto diversi cambi, subito al 45esimo, ha messo in campo ragazzi giovani e con voglia, che addirittura mi pare che sia un'amicella, era proprio l'esordio in prima squadra ed è stato uno dei marcatori e ci prendiamo questo punto, ma ripeto sono due punti persi e se andiamo avanti così sarà difficile, non ci prendiamo forse. Bene, grazie Luca Fioretti e buona fortuna per il prossimo campionato, grazie.